Salcio d'angolo della partita, rimessa laterale per il Verona che ha partito fortissimo su Brianne. Bruno Zucculini. E' Romulo a fare tutta la fascia, proprio qui sulla destra. Ecco, vediamo, vedi che posizione che ha. Lo scatto da parte di Bessa che riesce a sfuggire all'onghi. Se ne va Bessa, c'è spazio per lui, mette il cross, arretrato al limite. Siligardi si gira, sinistro che non parte, il rigore, Tabanelli, Masucci, Gatto, palla a cercare Tabanelli che è il più alto lì nel mezzo. Non riesce però a controllare bene l'ex del Cesena e allora scappa via Bessa con l'aiuto di Supra Yen. Servito il francese sulla corsa, ci controlla il destro, ribattuto. Lazzari, Bessa, viene dove lo spalla a spalla con Tabanelli in questo trentaduesimo giornale. Riccola è arrivato nel momento in cui il Pisa comunque tentava perlomeno di riproporre azioni offensive. Bessa perde il duello con Siligardi. Supra Yen, pizzico di confusione. Bessa, Subra Yen, che però poi recupera con l'aiuto di Supra Yen. Ancora Bessa, ha scambiato con Bruno Zuccolini. Va giù, Bessa, ammunizione per Di Taglio. Va da Bessa, attaccato da Tabanelli. Sguscia via, brillantemente Bessa, che poi apre a destra quel tempo. Un recupero che comincia esattamente adesso. Raguano si mette in mezzo e concede al Verona il recupero del pallone. Bessa da lontano. Bessa si prova. Peralta, aggancia non bene però. Bessa. C'è una traccia centrale per lui. La prende l'Italo brasiliano. Va da Romolo. Bruno Zuccolini, Supra Yen. E poi Bessa. In verticale vada Siligardi. Invece il fratello ha dato abbottantemente. Scambio tra Supra Yen e Bessa. La palla per Siligardi. Il cross dentro. Cercare Francesca sul pallone. Questo ritarda l'azione. Con tanti protagonisti, anche tanti gol. Cinque in assoluto, ma quattro nella prima parte della stazione. Adesso che siamo al trentatresimo minuto. L'hanno scambiato. Zuccolini rischia di essere sorpreso. Recupera però Bessa, Romolo. In mezzo c'è Gans. Gans! Ramparà. Sulla faccia sinistra. Lazzari perde palla. Contrasto premia Romolo. E poi occhio al pallo proprio di Longhi che prende giallo. Longhi con questo tentativo. Adesso tutto all'attacco. Romulo. Bessa. Ancora Romulo. Passa da quella parte. Tocco per Bessa. Bessa in area di rigore. Bessa ancora insiste. Bessa. Bessa. Balla dentro per Zaccagni. Poi Gans. Il giocatore veramente completo. Sa fare proprio tutto. Ho visto che Dribli che è durato bene.